La radio nasce dall'esigenza di parlare di questi argomenti in un modo un po' diverso dal solito, quindi senza fare chitinismi, senza puntare sui casi umani, senza fare gossip, ma semplicemente informazione, portando qualche storia positiva, qualche esempio di altra normalità possibile ed è quello che abbiamo cercato di fare, poi avendo anche degli ospiti di respiro, secondo noi politici, personaggi nel mondo dell'associazionismo, nel mondo dello spettacolo, insomma, e quindi speriamo di esserci riusciti. Innanzitutto già il nome della trasmissione, poi oltre le differenze, già si riflette nel lavoro di redazione, siamo più di otto persone, un lavoro di squadra, invece anche la nostra Veronica, la segretaria di redazione, siamo una tuttologa, anche le parti tecniche che ci segue passo per passo, oltre a, vabbè, noi due siamo le conduttrici, quindi già dalla redazione siamo un gruppo di persone, diciamo, variegato, cioè abbiamo diversi orientamenti sessuali, oltre a, oltre a dire, anche da diversi posti, a diversi città, siamo tutti di siena, insomma, siamo anche lì fuori, quindi già questo è, già insomma nel nome sta un po' il fatto di andare oltre le differenze, quindi di abbattere le differenze, poi sì, noi due, durante la trasmissione, giochiamo un po' sul fatto di toccare anche delle tematiche un po' più, un po' più scomode, quindi ci giochiamo sopra, di solito la parte del mio nato tocca a me, nel senso che, di solito io sono quella che ha dei cruci, no, diciamo, e poi sono quelli che abbattono un po' una persona normale, visto che parliamo di differenze, una persona normale, che quindi ha tutte le proprie remole del mondo, nei confronti della comunità, c'è la Repetico, e quindi chiedo spiegazioni a una persona che mi sa più di me, e quindi... E poi di normale, lei, 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 di normale, di normale, di normale, c'è un po' poco. Il sottolineante che abbiamo raccolto, diciamo che il momento più difficile è sempre quello del mondo del lavoro, e quindi fare il coming out nell'ambiente lavorativo è la cosa un po' più ostica, vuoi perché ci sono tante storie di discriminazione, vuoi perché appunto si sente un po' il rischio, la paura, l'insicurezza maggiore lì, quindi diciamo che molte delle nostre storie sono andate in questa direzione, quella di abbattere questi pregiudizi, soprattutto nel mondo del lavoro. e si è parlato proprio della utilità del fare il coming out, non che tutti debbano sentirsi obbligati a dichiararsi che quanto, perché appunto una maggiore visibilità è sicuramente utile all'abbattimento di stereotipi e di pregiudizi. Grazie. Grazie. cloak gripi. Grazie.